di solito i prestigiatori lavorano con degli assistenti in questo caso tu sei una bellissima assistente ma si chiama l'assistente del mago c'è un nome preciso giusto partner o assistente io come assistente uso un elastico c'è chi ci sono assistenti che hanno una che si chiama carmela gina in questo caso la mia assistente è la lori ma sono io veramente devo farti l'assistente dai diciamo solo per questo gioco eliminiamo i giolli che non servono in questo caso tutte le carte sono diverse lori ti chiedo cortesemente di scegliere una carta qualsiasi devo guardare sì 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 farla vedere anche i telespettatori naturalmente la luciana ecco io evito di guardare il monitor ricordati qual è che non mi ricordo eccola qui ecco dimmi non guardare non guardare non guardare aspetta che la riguarda ok posso girarmi sì ecco dimmi stop dove vuoi lorena stop qui ok mettila qui la carta non guardo assolutamente la posizione della carta vado tagliare diverse volte il mazzo lo so cosa state pensando anche da casa che fosse la carta è sopra e questa è la carta no 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 e sotto no allora guardate userò in questo caso entrare in azione il mio assistente elastico vado avvolgere con l'elastico tutte le carte tu sei vicino puoi vedere esattamente quello che sta succedendo ok c'è l'elastico avvolto tutte le carte anzi lo faccio un po più difficile lo facciamo doppio così ok si vuoi passare la mano sopra l'orema certo così l'elastico è scomparso caspita per la seconda volta hai dimostrato le tue dote immagini hai visto però interessante vedere dove è andato a finire l'elastico le carte sono 52 e vediamo se l'elastico ha catturato la carta giusta ma che bravo è giusta bravissimo bravo paladino bravo bravissimo come hai fatto bravo bravo complimenti bravo non sveglia i suoi segreti non sia mai a questo punto io vorrei invitarlo il trucco c'è ma non si vede se non vi dispiace vorrei invitarlo nei miei 16 locali tra new york ma non si vede se non vi dispiace vorrei invitarlo